Uno stanziamento di circa un milione di euro, è quanto il Consiglio regionale ha assegnato per il Piano annuale 2010 delle attività educative e culturali, approvato a maggioranza insieme alla proroga del Piano triennale 2006-2008 per il 2009-2010. Nel maxiprovedimento finalizzato all'attuazione di interventi per valorizzare il patrimonio culturale in una logica di sistema ed equilibrio territoriale, ha colto l'emendamento del Consigliere Autilio dell'Italia dei Valori che prevede l'inserimento tra i soggetti che realizzino iniziative di interesse nazionale anche del Liceo Scientifico di Melfi, organizzatore del Media Show e del Laboratorio Arte, Musica e Spettacolo di Matera. Sì dell'Aula anche per due emendamenti del Consigliere Scaglione dei Popolari Uniti per il sostegno all'informazione locale, un sostegno che sarà assicurato ai soggetti che abbiano regolarmente versato i contributi e retribuito i dipendenti. Bocciatura invece per la proposta di legge di Navazio di Io amo la Lucania sul riconoscimento del Media Show Olimpiadi Internazionale della Multimedialità e il rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 dell'Arzu.